Attenzione, adesso vi racconto la chicca del secolo. Allora, rincontro Nevio una quindicina di anni fa, mi dice, sai Firo, sono andato stirato, ho perso tutto, soldi, insomma, Firo d'accio. Mi chiama dopo cinque giorni, Filippo, però ho messo via qualcosina, giochiamo su un cavallo così inizio una nuova vita. Mi riprendo definitivamente, un cavallo con una quota altissima, era 10-12, mi fa metto 3.000 pezzi pegni piegati. Mi chiama, ovviamente lo gioco anch'io, sapete com'è andata la fine ragazzi? È là che sta ancora correndo. Sta ancora correndo il cavallo, sono passati 15 anni e sta ancora correndo il cavallo. E noi ci siamo andati alla canale. Non si è mai fermato e non ha mai vinto, e continua a correre. Si chiamava Era Ora. Perché tu fermi anche gli aeri. Gli aeroplani in corso. Bravissima. Poveri cazzo. Non puoi circolare, nevi lo sapevo. Non posso circolare, neanche uscire. A casa. A casa. A casa.